È bello amare il calcio. Lega Serie A e Team presentano la Serie A Team. Roma ha un appuntamento con il destino. Domenica lo stadio olimpico sarà l'epicentro della capitale. Due eterne rivali che viaggiano a braccetto in classifica si scontrano per lo stesso obiettivo, un posto tra le prime quattro per entrare in Champions League. Nell'ultimo turno la Lazio ha cancellato il gap di tre punti sui giallorossi. Ciro Immobile ha stabilito il nuovo primato personale di gol, diventando il primo giocatore bianco-celeste a siglare 27 reti in una singola stagione. Dopo aver perso 2-1 il derby d'andata, ora la squadra di Inzaghi vuole la rivincita. La Roma dovrà metterci la stessa grinta che le ha permesso di compiere l'impresa contro il Barcellona, conquistando le semifinali di Champions. C'è spazio per un solo risultato. Che la battaglia abbia inizio.